autentica sfida tra youtuber su ring si è svolto stanotte allo staples center di los angeles un incontro tra logan paul e l'inglese che si ad assistere a questo rimaccio diverse felicità a partire da dan viserian a jacques in bieber a vincere stato ksi anche se nessuno di due è andato capo e sono stati giudici a decretare i punti un 56 55 per logan un 73 e 57 54 e 56 55 per ksi hanno deridato dunque la vittoria del grande inglese decisivi due punti di penalità a logan assegnati proprio dall'arbitro l'incontro è stato trasmesso su da zone la famosa piattaforma e per la delusione di molti non ci sarà un terzo incontro ormai affatta così avrebbe detto il vincitore che al termine del match ha abbracciato il rivale in segno di fair play di rispetto reciproco si parla adesso del prossimo incontro tra altri youtubers tra i prodigionisti potrebbero esserci jake paul e anna son gibb youtuber inglese che si allena proprio con che gli sai vi ringrazio per l'ascolto il video di armina qua iscrivetevi se vi va commentate al prossimo video tale andro narrato italiano grazie a tutti